Grazie all'azione dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondio tolti dal mercato più di 13.000 prodotti ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei più piccoli. Si tratta delle classiche sorpresine contenute dentro gli ovetti di cioccolato e nelle patatine in busta. Regalini però sprovvisti delle istruzioni e delle avvertenze per l'uso, delle indicazioni riguardanti la composizione dei materiali utilizzati e delle informazioni considerate obbligatorie dalla normativa in materia di giocattoli ai fini della tutela della salute dei minori. La scoperta nel corso di un controllo effettuato dai finanzieri del gruppo di Sondio nei confronti di due esercizi commerciali con sede nel capoluogo. I militari hanno rinvenuto sugli scaffali pronti per essere venduti giocattoli contenuti in prodotti alimentari, patatine e ovetti appunto, non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla specifica normativa. L'attività di controllo è stata quindi estesa ai distributori di questi prodotti con sede in diverse province del nord Italia, permettendo così di togliere dal mercato complessivamente 13.766 giocattoli ritenuti pericolosi. Ai titolari delle imprese sono state contestate sanzioni amministrative fino a un massimo di 10.000 euro, mentre i prodotti sequestrati sono stati cautelati per la loro definitiva confisca. L'attività svolta dai finanzieri del comando provinciale è frutto di un'attenta e costante osservazione del territorio valtellinese eseguita in attuazione del dispositivo permanente di contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale e si colloca nel più ampio contesto dell'azione svolta dal corpo a tutela del mercato dei beni e dei servizi, orientata al contrasto dei diversi fenomeni illeciti che minacciano la proprietà industriale, il made in Italy, il diritto d'autore e la sicurezza dei consumatori.